Oggi celebriamo i 110 anni della CMB che ha storicamente da 30 anni una sede anche a Milano e questa sede oggi da qui si può ammirare anche il lavoro che ha fatto questa impresa nella trasformazione urbana e architettonica della città, soprattutto nella sua dimensione verticale e di riqualificazione di interi quartieri. Questi 10-15 anni sono stati anni di grande sacrificio e fatica per chi si è occupato di immobiliare e di sviluppo immobiliare. CMB è tra le poche imprese che ha saputo mantenere un presidio di mercato importante in una realtà significativa come Milano sapendo innovare sia nella propria offerta di servizi e anche sia nelle capacità tecnologiche di realizzare questi nuovi insediamenti. Il mercato si può dare per acquisito che non è cambiato una volta per tutte ma è un processo di continuo cambiamento e quindi le imprese che si fermano saranno quelle che faranno più fatica a interpretare il futuro dell'esigenza dei committenti e delle persone che sono alla ricerca di prodotti di qualità e di servizi sempre più prossimi all'esigenza delle persone. Per quello che riguarda le cooperative nel loro insieme, al pari di altre imprese, hanno anche esse sofferto di queste criticità che hanno un po' rallentato il settore. Tutto sommato devo dire che per le cooperative si aprono anche delle grandi possibilità perché mai come adesso la sfida sarà una sfida sulla qualità dei prodotti e dei servizi e quindi non si tratterà solo o semplicemente di affrontare il tema di crescita o di prodotto in termini dimensionali ma proprio di riuscire a avvicinarsi direi quasi fino ad arrivare alle esigenze singole del singolo individuo, del singolo cliente, del singolo committente, sia esso privato ma anche pubblico. Quindi per noi l'esigenza vera diventa il discrimine tra chi ragiona in termini di qualità e chi ragiona in termini di quantità. Tutti coloro che ragioneranno esclusivamente o prevalentemente in termini di quantità sono destinati a non fare una bellissima fine. Per le cooperative e per le imprese mi permetto di dire che invece accettano la sfida della qualità in questo senso secondo me il futuro sarà anche più non scontato ma sicuramente ricco di soddisfazioni così come lo è stato per la CMB in questi 110 anni di storia. Grazie a tutti.